Prima tu esi da casa, chiami la famiglia e tu vedi come vanno. E poi dopo tu vai a lavorare. E poi nemmeno una ora, due ore, l'hanno chiamato e detto è morto. E chi lo crede? Una comunità distrutta dal dolore per un gesto di un folle, i parenti di Ididiane chiedono giustizia. È qui, a pochi metri dal salotto buono della città, l'epicentro del dolore della comunità senegalese. È qui che abitava Ididiane, colpito dai colpi di pistola sparati da Roberto Pierrone sul ponte Vespucci di Firenze. È qui che si è rifugiata Rokai Ambenge, la moglie di Ididiane. Ci accompagna Niang, un amico di questa famiglia segnata dalla tragedia. La cerchiamo, ci fanno sapere che non riesce ancora a parlare. Troppo il dolore affrontato in questi giorni bui. È un dolore, si stanno vedendo tutti, stiamo vivendo tutto questo dolore. È un dolore, si stanno vedendo tutti. Sentiamo il suo pianto nella stanza accanto, mentre i familiari di Ididiane ci accolgono e raccontano quello che un'intera comunità sta vivendo. Si chiede la mano a aiutarsi, perché noi emigrati senegalesi siamo proprio stanchi di questa cosa di genere. Siamo stanchissimi di queste cose. C'è un dolore, non c'è fine di questa cosa. Pensate a due persone, da meno di cinque anni, due persone di una famiglia. Vedi? Andrà via Rocaia, tornerà in Senegal portando con sé il corpo di Idid. Questo paese le ha fatto già troppo male. Sei anni fa, infatti, la donna aveva incredibilmente vissuto la stessa tragedia. Quella volta fu il suo compagno di allora, Sam Modu, a finire ucciso sotto i colpi sparati da Gianluca Casseri. Io non si sto bene e vado fuori a spararsi alle gente. A me è una cosa che deve fare la giustizia, non è mia normale questo.